Namaste. Per essere capaci di goderci la vita e soprattutto goderci la vita e le nostre relazioni anche se non va tutto secondo le nostre idee, ok? Se la vita non va esattamente come la nostra mente pensa che dovrebbe andare anche se gli altri non si comportano come la nostra mente pensa che si dovrebbe comportare anche se non siamo tanto felici con il nostro passato e anche se la nostra mente si preoccupa sempre del futuro o che cosa sta succedendo nel mondo. Se vogliamo goderci la vita lo stesso c'è un modo e la scienza dello yoga, la filosofia dello yoga ci insegna come possiamo trovare dentro di noi un equilibrio così costante, così incondizionato che possiamo semplicemente osservare tutto quello che succede intorno a noi o nella nostra mente e nel nostro corpo per rimanere sempre tranquillo. Se questo ti incuriosisce, il 25 di febbraio facciamo un altro workshop a Via Grande, prendo azioni con Ceccio e io spero di vederli lì.